Perché ho inserito questo incontro in un percorso, in un curriculum di educazione finanziaria? Perché con l'esperienza di 26 anni di lavoro ho constatato che spesso sarebbe utile e intelligente utilizzare il consulente finanziario come recettore di base, come medico di base per far venire fuori questo tipo di esigenze per poi fare insieme lo step successivo e andare da professionista di questo settore. Chiaramente non ho nessun tipo di competenza né capacità per risolvere questi problemi, però siccome il mio lavoro si basa essenzialmente sul confronto con le persone, quindi sul parlare molto con le persone del loro patrimonio, non è il caso, spesso, spessissimo, solo con questo tipo di esigenze, e spesso, spessissimo, l'idea, cioè quello che io chiedo, quello che dico, ma andiamo a parlare da notario? E le risposte sono sempre sì, no, ma si farà? Sì, no, lo so, sì, ora si sistemerà, eccetera, eccetera. Quindi uno scopo è quello di far capire che questo tipo di situazioni sono strettamente legate all'educazione finanziaria, cioè sono molto, veramente molto legate e sovrappolite. Allora, in Italia diciamo non si parla di questi temi, si parla poco di questi temi, uno per questo bariascognitivo fastidioso di cui vi parlavo prima, e un altro per aspetti che ho cercato di sintetizzare in questa slide, in questa slide, ora ho permesso di dirlo, in questa slide vedete due grandi attori della comicità italiana, a posto a destra c'è Lino Banfi. Però c'è sempre un aspetto, c'è sempre un aspetto di scaramanzia, di poco interesse a parlare di queste cose. Come tutte le tale culturali che, almeno, abbiamo rispetto ai paesi scandinavi, che sono ormai il modello per la cultura universale, tutta questa roba si paga in che senso? Il risultato della resistenza delle persone a parlare di questo tipo di argomenti molto spesso sono, e il notaio mi darà l'atto se dico il vero o no, problemi per i superstiti, in caso di che succeda una cosa, diciamo, definitiva. Problemi per i superstiti, l'ho messo per prima perché è una cosa molto, molto importante, perché quasi sempre i superstiti sono donne con figli piccoli, in età di studio, in età giovanile, quasi sempre, molto spesso, e in genere la donna della famiglia con figli a carico, eccetera, è il soggetto che avrebbe più bisogno di tutela. Possono sorgere, ci sono problemi di ordine fiscale, ovvero se io posso pagare 5.000 euro, non vedo perché ne devo pagare 10, basterebbe un po' di pianificazione successoria o pianificazione patrimoniale per risparmiare un po' i soldini. Hanno seriti familiari e rancori familiari, questo credo che ognuno di noi abbia testimonianze di episodi di questo genere. Di conseguenza, molti beni, molte volte, capita che beni, soprattutto immobili, rimangono utilizzati per molto tempo, quindi, leperiscono, invecchiano, si sciupano, non vengono sfruttati, eccetera. Tutto questo succede perché in Italia le successioni testamentarie, che, come cercheremo di dimostrare in seguito, sono un'abitudine intelligente da apprendere, sono circa il 15% di tutte le successioni. L'85% sono successioni legittime, normali, che vanno, diciamo, secondo i criteri stabiliti dal Codice Civile, non stabiliti dal debuius, da quello che ci lascia. Di conseguenza, molte cause civili, non ho una statistica precisa, perché purtroppo l'ho sentita una volta alla radio, ma stiamo veramente su cifre impressionanti, molte cause civili sono originate da problemi successori, cioè dall'IT per l'Italia. Pensate, i problemi della giustizia civile in Italia, se vi dico, una qualsiasi percentuale, anche se fosse il 3%, non è il 3%, il 3% è molto di più. Anche se fosse il 3% delle liti civili in Italia fossero originate da problemi successori, avremmo risolto già un 3% dei problemi. Questo è il risultato del fatto che, per scaramanzia, perere, eccetera, eccetera, non ci vogliamo occupare di queste cose.